a tutti e a tutti da parte mia e di tutto lo staff del cristallo questa sera è il primo appuntamento del nostro percorso che ormai si ripete da molti anni che si intitola le vie del sacro è un percorso che realizziamo ogni anno in collaborazione con la diocesi con la caritas con l'acli e con il centro pace questo appuntamento in particolare quello di stasera è fatto però anche in collaborazione con il frau e museo di merano che dire le nostre ospiti sono ospiti veramente di altissimo profilo di molto talento e di grande interesse sua teresa forcades che arriva dalla spagna dalla catalogna anzi e invece milena mariani che arriva da trento e il filo rosso dei percorsi del percorso le vie del sacro di quest'anno sarà legato al tema che ha dato la diocesi cioè nelle tue parole vicine insieme quindi si parla di relazione fondamentalmente di lingua di relazione di fluidità delle relazioni e quindi penso che avrete molto da dire io sono qua solo per ricordarvi i prossimi incontri della delle vie del sacro li leggo per non sbagliare gli orari allora domenica prossima il 3 ci sarà alle ore 8 e 30 la proiezione di un documentario nuovo bolzano più erlangen dedicato alla figura di meier nusser e saranno presenti in sala i registi marco somma e martin streitberger e ci sarà un intervento anche di francesco comina questo il 3 ottobre l'11 novembre invece sarà con noi il teologo martin lintner che ci presenterà il suo libro l'etica animale e ma sono senza occhiali io per cui non riesco a vedere se fra il pubblico ma se fra il pubblico lo lo saluto ecco che ci presenterà appunto il suo libro dedicato all'etica all'etica animale una prospettiva cristiana anche questo un tema molto importante di grandissima attualità e che ci parla delle relazioni che abbiamo con quello che ci circonda l'ultimo appuntamento sarà invece il 16 di novembre con il cardinale matteo zuppi che dialogherà con fabrizio mandreoli sull'enciclica fratelli tutti ecco questi sono gli appuntamenti fino a dicembre poi nel corso del tempo vi daremo informazioni anche sugli appuntamenti che ci saranno nella seconda parte dell'anno è bellissimo poter riprendere il dialogo con il pubblico dal vivo era quasi un anno praticamente che eravamo fermi adesso abbiamo avuto già alcune alcuni appuntamenti abbiamo visto che le persone hanno proprio voglia di dialogare insieme vedendosi e sentendo anche quella che è tutta l'emozione e la ricchezza di una sala l'ultima cosa eh che voglio dire anzi due ne devo dire ancora la prima è che ringrazio ubic che ci accompagna sempre vorrei sottolineare anche il fatto che veramente eh sono sempre al nostro fianco con fatica e impegno devo dire quindi grazie moltissimo alla libreria ubic come vedete qua ci sono i libri di Teresa Forcades a disposizione quindi ho visto che già alcuni di voi li hanno presi e poi alla fine della conferenza potrete prenderne altri e vorrei ricordare ancora eh un pensiero eh a Romano Cavini che è mancato oggi e che era il presidente del teatro Puccini di Merano lo ricordiamo perché è stata una figura importante appunto nell'ambito del teatro presento brevissimamente eh la nostra moderatrice ma più che moderatrice sarà una dialogante diciamo e anche qua mi sono scritta tutto perché non volevo sbagliare eh assolutamente docente di teologia sistematica e storia della teologia del ventesimo secolo a Trento e eh docente di mariologia all'istituto superiore di scienze religiose di Bolzano Milena Mariani con questo vi ringrazio moltissimo siete in tante e in tanti la serata sarà bellissima e ringrazio ancora le nostre due ospiti grazie buonasera a tutti voi un grazie di cuore a sua Teresa Forcades per aver accettato l'invito e un grazie anche al pubblico perché è uscito di casa per partecipare a questo evento in un tempo che per tutti noi resta ancora abbastanza difficile come sappiamo ecco sua Teresa Forcades che incontro davvero volentieri eh è una personalità eh rilevante nella panorama non solo intellettuale della Spagna odierna ma anche nel panorama internazionale la sua biografia è davvero singolare è medico con specializzazione negli Stati Uniti è monaca benedettina nel monastero di Montserrat vicino a Barcellona è teologa nota sulla scena internazionale e anche è attivista politica per l'indipendenza della Catalonia nonché opinion leader su molti temi attuali e scottanti quindi una personalità forte e eh ben nota eh delle sue dalle sue pubblicazioni emerge una capacità non comune di di intrecciare ambiti che solitamente si tengono separati e dunque la teologia che rimane al centro certamente dei suoi interessi eh incrocia eh spesso non solo la filosofia ma anche l'economia la politica la medicina eh i suoi titoli sono moltissimi alcuni dei testi tradotti li potete trovare lì e quindi non sto a ripetere eh questi titoli eh sono tradotti anche in molte altre lingue ecco quindi davvero sono lieta questa sera di poter dialogare con sua Teresa e ho molte domande da rivolgerle vediamo che cosa riusciamo a fare insieme ecco parto da quest'osservazione e sua Teresa le tue sembrano più vite eh ho raccontato prima appunto qualcosa del tuo profilo raccolte in un'unica biografia e bibliografia e allora incominciamo per così dire dalla prima vita o dalla prima scelta perché hai scelto di studiare medicina e che cosa ha significato per te eh andare a studiare medicina negli Stati Uniti? Quindi eh ti saluto Milena e anche a tutti e grazie per questa opportunità di essere oggi così e mi accade come ieri ieri io era a Merano e anche quando fa un dialogo io ti vedo a te ma il pubblico è qui e non non mi risulta facile di parlare solamente con te ma anche non mi risulta facile di parlare con tutti quando la domanda è qui quindi lo faccio come non lo so al mezzo e quindi la medicina la medicina è una tradizione familiare io ho una madre che è infermiera e un padre della mia madre era medico il mio zio il fratello maggiore della mia madre è anche chirurgo e io mi ricordo che io aveva era piccolina e sempre diceva io sarei infermiera e una volta un professore della scuola quando io aveva dieci anni ha detto infermiera infermiera perché non medica? Io ho detto io sarei medica questa era la cosa e quindi dopo io aiutavo il mio zio quando era anche piccolina perché lui lavorava per un posto di accidenti laborali e io potevo andare a vedere tutto quello che faceva e per me era chiaro che io non volevo essere chirurga ma mi affascinava questa realtà di avere la possibilità di vedere gli uomini e donne quando non potevano andare con la masche la masche sociale la cosa che noi ci presentiamo l'altri no? Come si sembra a noi di essere meglio come potiamo ma come procuriamo di farlo di un modo dignificante sì ma quando tu sei malato all'ospedale tu sei nudo o quasi nudo e anche questa cosa ridicola dell'abate che si operano qui e non questo perché lo facciamo ma va bene è così e significa per me significava che era un'opportunità di vedere qualche cosa dell'essere umano che mi sembrava di più autentica e quindi quando ho fatto la teologia non mi ha sembrato di andare da una cosa a un'altra totalmente differente ma mi sembra sempre che la cosa che porta insieme tutto che io faccio è si può dire antropologia ma non antropologia come antropologia di andare a vedere l'altra che è differente ma ma l'interesse per l'essere persona che cosa significa che cosa è l'esperienza personale che cosa significa di essere questo questo tipo di essere bibenti che 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 ha un rapporto con le altre e con se stesso e che ha una difficoltà di vedersi come è è una difficoltà di mostrarsi come è e tante opportunità di farlo e non lo so sì questo abbiamo compreso già questo filo di continuità che si intravede un poco nella tua vita ecco mi colpisce questo tu sei andata negli stati uniti e l'esperienza ti ha evidentemente segnato ma aggiungo un'altra domanda la professione medica la esercitata per brevissimo tempo anche se penso che ancora ti prendi cura delle tue consorelle nel monastero ma mi colpisce il fatto che l'interesse per la medicina non ti ha mai abbandonata anche quando poi è cambiato la tua situazione di vita e non solo l'interesse per la medicina ma se anche nota a livello internazionale per delle posizioni che hai preso a riguardo delle industrie farmaceutiche ecco allora gli stati uniti e questo interesse continuo per la medicina e per problematiche legate appunto alla medicalizzazione alle stati uniti è andato perché io volevo fare ricerca sul virus su biologia e mi mi aveva affascinato una cosa che si chiama prion e prione sono proteine che ha però possono fare indu inducere il replicamento di se stesse quindi la definizione di vita è quella che si riproduce e quindi abbiamo una proteina non è viva propriamente ma alla proprietà questa proteina che si chiama prion alla proprietà di faccere replicare era affascinata da questo è andato anche prima di andare alle stati uniti io aveva 25 anni e ho fatto l'esercizio spirituale di nazio di loiola del gesuiti per un anno alla vita ordinaria e dopo un mese per fare una scelta di io devo andare come cristiana alle stati uniti o no ma questo era per me perché io pensava come cristiana io non devo volere di andare a fare una carriera io devo andare a un piccolo paesino e fare la medica di famiglia e questo mi sembrava di essere coerente mi sembrava ma il cuore voleva un'altra cosa io volevo andare agli stati uniti vedere come si faceva la medicina e vedere che cosa è di essere in un centro di renombre internazionale fare con altri e dopo del mio discernimento era per me è stato chiaro che sembrava di sì che era più bello cristianamente di andare al paesino piccolo ma che non si può andare contro di la cosa che si sente profondamente che non è la maniera di essere cristiano di andare con un debere che deve essere e dopo cosa senti viene reprimita no e quindi io andato no perché ho pensato la meglio cosa che io può fare come medica cristiana andare agli stati uniti ma c'è era la meglio cosa che io poteva fare in quello momento e pensato forse dopo di cinque anni io mi sono un po' appazzificata e dopo posso fare la medicina nel paese piccolo quindi e e dopo alle stati uniti ho trovato una medicina che mi ha affascinato perché era molto sviluppata tecnicamente molto veloce molto ben coordinata tutto che io già conoscevo ma ma di un modo internazionale io ho avuto compagni compagna medici di tutto il mondo in questo ma a mi mancava qualche cosa io ho visto alle stati uniti una medicina privatizzata e io non era abituata a questo alle anni 80 alla spagna dopo della del franchismo e questo momento dell'apertura ed è una società che si vuole nuova e meglio e giusta e il nostro sistema pubblico di salute era totalmente pubblico e la gente delle stati uniti non capivano ah tu vieni di un paese comunista no non è un paese comunista ma naturalmente si deve aiutare alla persona che è malata e non si deve pagare ognuno pagare di questo quando lo bisogna perché perché è molto soldi e non tutti bisognano ma tutti possono bisognarlo quindi tutto paghiamo e dopo quelli che bisognano hanno i soldi e tutti siamo felici no 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 non lo capivano e adesso io vedo con con questa profonda eh inchietudine e non mi piace assolutamente di vedere che andiamo come gli stati uniti e sempre di più la medicina privati privatizzata e sempre di più andiamo a pagare a un'entità privata una sicuranza che dopo i soldi sono per il bucchio del capitalista no 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 per gli altri lo conosce forse bene ma questo è una cosa che mi arrabbiava e anche che io ho visto almeno alla catalogna la spagna dell'anni 80 essere medico era ancora una cosa umanistica era ancora alla al collegio dei medici eh avevamo avevano una una un'orchestra e anche un circolo literario quindi il medico era un personaggio un po' umanista una persona che aveva un interesse per tutto quello che è umano e per la vita dell'espirito e per la vita che che è riflettere a se me a se stessa no sì e quindi le arti e tutto questo alle stati unite io ho trovato compagni che erano solamente tecnicamente interessati e molto bravi a fare una tecnica io anche ho imparato a fare una colonoscopia e a fare una endoscopia e mi ha piaciuto ma non tanto ah sì la catetera ha andato tre centimetri di più di meno va bene è un po divertente ma dopo era un po buota per questo e per questo io so che mi avancio ma Elisabeth Schussler Fiorenza che è una teologa tedesca che fa la biblia una biblista è andato alle stati uniti quando io era biblia alle stati uniti ma ha venuto a buffalo new york dove io ho fatto la specialità e ha dato una conferenza e dopo della conferenza mi ha invitato perché lo dico rapido ma all'anno 92 io era alla barcellona non era ancora andata alle stati uniti non era teologa ma aveva già fatto la mia conversione e io è andato alla conferenza della schussler fiorenza a barcellona all'anno 92 cosa che è accaduto è che la schussler fiorenza era qui ha parlato in inglese e una traduttrice ha fatto la traduzione la traduttrice era buona d'inglese ma era nulla da teologia e quando la schussler fiorenza ha detto le padre del deserto si pensava che era il progenitore della schussler fiorenza ha fatto malissimamente che non si poteva andare via con la conferenza io era nel pubblico e il mio amici ha detto tu puoi fare volontieri perché non la conferenza è stata interromputa io ho andato ho detto forse può farlo e l'ho fatto alcuni sono arrabbiati anche perché io ho tradotto dell'inglese al catalano e alcuni sono venuti di altre parti della spagna per ascoltare questa teologa e l'altra traduttora lo aveva fatto all'espagnolo ma io ho detto non è un problema io farò dell'inglese al catalano del catalano all'espagnolo ma non voleva che il catalano non c'era quindi l'ho fatto e schussler fiorenza è stata questa la prima non può farlo la seconda un problema con le lingue ma andato benissimamente e quindi e lui lei è stato molto molto felice di questo mi ha io è contato io vado in un mese alle stati uniti a viene vermi e boston questa era la relazione e dopo quando è venuto a buffalo io sono sorpresa e io andava sempre stanca come medica perché tutta la notte dobbiamo lavorare ma io volevo andare a questa conferenza sono andata e io non so cosa ha detto perché tutta la conferenza io dormiva perché era così stanca ma alla fine ho andato a dirgli ah io sono qui ah ti ricordo benissimamente viene con me perché noi andiamo adesso con i filosofi e teologhi per un rapporto privato ma tu vieni con me e io andava con tu hai visto la serie di televisione come vanno i medici americani con questo scrubs io andava così ma ho andato con la schussler e il gruppo di teologo filosofi io era stanca ma immediatamente è stato tanto interessata cosa che si scambiava e cosa che si pensava e cosa che si diceva e io ho pensato cosa io non posso rinunciare a questa vita intellettuale non posso andare tutta la giornata con il cateter di più di meno e quindi ho deciso di tradurre il libro della schussler che aveva presentato che io non aveva sentito nulla di questo era il libro che si chiama but she said però e lei ha detto no però lei ha detto è il libro di ermeneutica femminista e il libro mi è piaciuto tanto ho fatto la traduzione al catalano dopo di un anno ho chiamato a Shirley Firenze ho detto io sono sì sì ti ricordo bene ho fatto la traduzione oh benissimo perché ha pensato era l'espagnolo la traduzione no l'ho fatto al catalano oh benissimo al catalano ma io ho una domanda per farti mi ha invitato ad andare a Boston lei insegna a Harvard e abbiamo avuto tutta una mattina che io ho parlato di cose che io non era sicura e dopo di questo mi ha detto ma tu sei al livello del mio studiante di dottorato perché non fai la teologia è stata lei che mi ha invitato a farlo e io ho pensato forse sì e dopo ho fatto ho fatto due anni la medicina secondo terzo anno della specialità e ho andato a un seminario di western new york 45 minuti la neve e tutto ma ma era un piacere profondo era un bisogno che aveva di anche alimentare questa parte di me e dopo da questo la Shirley Firenze ha fatto una riquesta per una scholarship per me a Harvard e me lo hanno dato e è per questo che dopo di fare la specialità di medicina noi andato direttamente a fare la medicina perché quando ti donano una scholarship come questa che ti pagano tutto e ti danno soldi per bibere per libro per tutto tu non puoi fare un altro lavoro però deve fare solamente questo e quindi che cosa cosa però poi nonostante tutto questo questa vivacità che che abbiamo intuito a un certo punto decidi di entrare in monastero una scelta che fra l'altro i tuoi genitori se ho ben compreso non approvano dal principio la mia madre ha detto te diseretto ma io è il risposto ma se non hai nessuno nessuna cosa ma è il valore simbolico della cosa tu sei diseretata ecco ma appunto ma perché allora questa scelta c'erano c'era già la medicina c'era la teologia perché il monastero questo non è una scelta nel senso che io ho pensato che cosa voglio fare con la mia vita questo è un'esperienza di essere chiamata e questo è molto tradizionale la vocazione viene di questo verbo latino vocare e chiamare il vocativo del verbo latino si ricordano quando studiamo è quando si dice domine quando si parla l'altro è un vocativo perché una chiama una chiamata si chiama e quindi io era andata al monastero che dopo ha diventato la mia casa sono andata al 9 95 non per essere monaca non per per pensare pensare di essere monaca ma per studiare l'ultima esame di medicina che è molto lungo 500 500 domande è una cosa che si prepara fortemente un anno e io lo aveva fatto già lo vi aveva fatto già alle stati uniti ma tutto noi bisogniamo di un mese di fare una tutto solamente di fare test 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 per essere bene preparato e quindi io cercavo un posto tranquillo e andato a questo monastero e ho fatto lo studio ma del primo giorno io ho sentito una cosa che forse mi accade nella vita che tu hai intuizione no intuizione non era io andato al monastero pensato di essere monaca no ma l'intuizione era una buona scelta una buona cosa una buona ma questo no non di più da questo e dopo io adesso sono monaca per 24 anni e adesso quando alla mattina alla 5 50 si sente no io dormo oggi tante volte no io non 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 vado così rapidamente ma in questo mese io era sentiva questo era così felice di andare ma non non voleva essere sorella non non aveva questo pensiero ma solamente io gaudeava gaudeva gioivo gioivo di questa esperienza è andato alla matutina è andato alla laudis è andato a tutto è una una sorella che era quasi cieca e stava in un posto è un po come questo la nostra chiesa e così è a un posto alto per le sorelle che sono malalti che questo posto va diretto all'infermeria tanti monastero hanno una cosa così quindi le sorelle malalti possono partecipare direttamente della preghiera senza senza essere vista o tanto e quindi questa sorella io non lo sapevo ma era in questo balconino e dopo che tutte le sorelle sono andate via io rimaneva qua ma perché mi sentiva bene e faceva non faceva nessuna cosa solamente nel cuore faceva una preghiera e rimaneva là e questa sorella mi vedeva un giorno un altro giorno un altro giorno e dopo di due settimane ha detto alle sorelle di dentro 40 40 sorelle in questo monastero la donna che ha l'infermeria sarà per qui e io non sapeva nessuna cosa e gli altri da meno hanno detto e tu no no tu sei cieca e non pensa bene perché è una è una medica americana è una medica l'estate unite che cosa ma questa sorella era per qui e lo diceva ma io non sapeva nessuna cosa di questa e dopo di tre settimane la ultima settimana di questo mese un giorno io accaduto che tutte le sorelle hanno andato dopo della laudes fuora della chiesa e io ho stato sorpresa di una pensiero interno di una parola interna che ha detto ah puoi immaginarti di vivere così come un desiderio che è stato dentro di me si è espressa e mi sorprende a me no questo sembra strano ma forse si capisce che cosa può accadere no che tu questa cosa di che tu può essere sorpresa da te questa è una cosa che che io dopo al monastero ho tante volte sperimentato quando noi andiamo la lezione divina questo è ogni giorno per un'ora e mezza e io mi mi sedo e mi chiedo come stai e questo sembra una una ricuesta assurda perché io chiedo a te come stai milena e all'altro ma come mi chiedo a me stessa come stai se tu non lo sai chi lo sa ma questo è cosa che io ho scoperto nella mia lezione divina è che io non ho idea come stai fino al momento che io paro e mi richiesto come stai e faccio un silenzio perché non è così che lo sai immediatamente io non lo so devo fare un momento di pausa e dopo inizio a capire qualche cosa di come stai e dopo di una mezz'ora di silenzio forse piango e perché piango io non lo so perché piango ma ma viene una cosa che sembra di essere autentica e dopo io interpreto ma ma questo era l'inizio di questa dopo io ho sperimentato una cosa e dopo ho andato la mia ragione immediatamente una lotta no con questo perché era era un desiderio era una esperienza che quando io la comparo a qualche cosa sempre dico la la di innamorarsi di essere innamorato perché è così forte e così incontrollabile che tu non puoi dire adesso vado innamorarmi adesso non di più forse tu vogli essere innamorata e non ti viene e forse non voglia essere innamorata e ti viene per quello che non è la persona corretta e tutto questo quindi un'esperienza intima forte soggettiva e e questo è stato l'inizio ecco quando qualcuno legge i tuoi libri o anche incontrandoti si ha l'impressione di una donna molto libera e a molti però il monastero con le sue regole con l'obbedienza alla badessa sembra esattamente l'antitesi di un'esperienza di libertà ecco come si coniugano obbedienza e libertà concretamente nella tua vita come te la cavi a tenerle insieme come si fa con difficoltà questo è la sì e fino oggi ho detto già ventiquattro anni e non è così che che forse sì ma ma non andrà più facile nel senso che io adesso non ho difficoltà con questo ogni volta che io desidero una cosa che io vedo chiaro che una cosa deve essere fatta o che io devo farla e mi viene un no ogni volta io mi rivolto non è così che adesso no io sono in un piano superiore no io non sono in un piano superiore ogni volta io io sento dentro di me di questo non è buono ma è vero che che alla prima questo non è buono durava due mesi dopo di due mesi io sono ancora a questo e adesso no non dura ma non dura non perché io penso alla battessa ha sempre ragione e io io no non ho ragione io non lo penso forse è vero ma non lo penso così io penso che forse qualche volta io ho ragione ma è così che io forse ho imparato un po come io voglio vivere non è così di avere ragione la cosa più importante ma di vivere insieme è molto importante per me cosa significa questo mondo che viviamo un mondo dove c'è tanta violenza dove c'è tanta solitudine dove c'è tanta tristezza forse e questo sono mi ritorno a cosa che io ho sperimentato come medica no quando la persona soffre soffre fisicamente ma è una cosa buona della nostra cultura e società che noi abbiamo imparato di fare tanto per la sofferenza fisica è una cosa di ringraziare ma oggi io vedo è la sofferenza psichica emozionale e spirituale quella che che è più presente e tu puoi dare una una analgesico per un dolore fisico e abbiamo anche pastiglia pastiglie pildore per problemi emozionali ma non funziona così bene no forse un po ma dopo è la cosa più difficoltosa quindi questa questa domande profonde io penso che hanno direttamente qualche cosa di avere con la capacità e la volontà l'imparare che cosa significa vivere insieme e quando noi nel monastero non è così che noi abbiamo una battessa dittatoriale che dice tutto che si fa la battessa parla con tutto e ma forse è più volte accaduto no che la battessa pensa altramente che io che c'è ma che la comunità vuole una cosa che e quindi è per me è chiaro se io voglio andare da sola posso farlo e potremmo farlo no forse sono qui parlo benissimo della comunità e domani si ascolta la sorella for case è andata via è sempre una cosa possibile aperta ma dove io trovo la sfida più grande sfida in un senso positivo è la cosa che mi mantiene viva che mi fa sì un'altra volta gaudere gaudire gioiere della vita che mi sembra che un come un'avventura ogni giorno ha tanto di vedere con questo vivere insieme gli altri sono tanto originali sempre fanno una cosa che io non penso che faranno non sempre ma ma tanti volti o dicono la cosa e quindi io sono sì arrabbiato contrariato e quindi io imparo qualche cosa da me stessa che io posso parlare della pace tutto e dopo che cosa significa questo ma mi piace perché questo è autentico è una verità che io da sola non la riesco a vedere a vedere allora rimaniamo ancora sul terreno della libertà le obbedienze libertà un tuo libro si intitola fede libertà solamente una cosa milena scusi perché con questo che ho detto dell'obbedienza naturalmente io difeso e penso che è importante la oggezione di conscienza e io penso che se un momento io la mia obbedienza mi richiama di fare una cosa che io penso assolutamente di no che io devo farlo questo non è così che io conosco altri gente che hanno detto no di cosa io rispetto assolutamente ma la cosa che accade con me è che ogni volta che uno mi dice una cosa che va a contro io penso è un momento dell'oggezione di conscienza e questo non può essere sono solamente una reazione che dopo ho sperimentato che non è così profonda ma naturalmente io penso che c'è e la chiesa è per tutti questa possibilità di dire un no che non deve essere affeblito indebolito che non deve essere quindi io non penso che sempre che sempre o ne escezioni la persona fa bene che va con tutti o che dice ah tutti dicono così va bene va bene no no io non penso così ma il momento dell'oggezione di conscienza e qui vedo francesco che ha scritto il libro di franz diega estetta e mi ha raccontato questo un uomo che ha detto tutto vedono la cosa di una forma io la vedo differente in questo era contro di chiller naturalmente è molto importante ma le cose che io esperimento nel monastero non sono queste ah una volta io l'ho fatto con l'aborto che io ho scritto no ho scritto in un programma di televisione catalana io ho detto che mi sembra bene o mi sembrarebbe bene che tutte le donne portano la pindola del dia di dopo sì si dice così dal giorno da dopo perché io avevo sperimentato in la 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 emergency room e ma pronto soccorso eh desaffortunatamente tante volte la la violazione e cosa accade quando è nel momento io penso che all'america si faceva come una cosa di rutina di darlo quando questo è accaduto e quindi io non spiego tutto ma io avevo detto questo e dopo uno ha denunciato al vaticano non so fino oggi non so qui ha fatto e ha avvenuto una lettera dal vaticano per la mia battessa non per me questa è una cosa che non mi piace perché se una persona adulta è una nonna ma è una persona adulta non deve parlare solamente che la battessa è informata mi sembra normale bene ma che io non sono informata direttamente non mi sembra bene ma è accaduto così normalmente accade così scrivono alla battessa che deve disciplinare la nonna e questo anche non mi ha piaciuto perché questo è come non domandano alla battessa cosa è accaduto è una una denunzia anonima e il vaticano risponde in questo caso era il dicasterio per la vita apostolica risponde con una già decisione presa non mi ascoltano a me non ascoltano alla battessa non ascoltano a nessuno che cosa accade qui quindi io era berlino in questo momento e la battessa mi ha chiamato mi ha detto la lettera venuta cosa facciamo e io ho detto ah ma la lettera voglia che io dico una cosa che non penso io non posso dire se io penso una cosa forse non sono sbagliata questo chiaro ma se io dico io penso così è perché io penso così e io non posso andare al pubblico e dire io aveva detto penso così ma adesso non penso così questo posso farlo sì ho variato la mia maniera di pensare ma se io penso la stessa cosa non posso dire io ho detto questo che cosa si aspetta il monastero da me che io che io come si dice in italiano mentire io devo mentire questo è un peccato non si può fare questo non può ma io lo diceva seriamente non si può se tu mi dici che io silenzio questo mi può domandare e non mi piace ma io lo farò ma ma dire una cosa che non penso io non lo farò non posso farlo e quindi la battessa io ho detto tu no aspetta di me che io dico una cosa che non penso e la battessa che è molto molto come dire sì una donna non è la battessa che noi abbiamo adesso è un'altra ma questa ancora vive ma è una donna molto come devo dire sì libera e anche ma anche sa come fare no e mi ha detto quindi tu no aspetta che io faccio quindi ok lasciami pensare da questo io ho pensato da questo e dopo per me non era possibile dire no si io penso sì ma ho pensato forse io posso fare una mi mi hanno demandato una retrattazione no retrattare io ho scritto una esplicazione una clarificazione per dire forse non si è capito bene cosa che io voleva dire e quindi ho fatto questo e io non spiego tutto l'argomento questo pubblicato e si può leggere con come io ho risposto ma la cosa che mi interessa adesso di dire è io ho inviato alla battessa la battessa mi ha detto bene lo discuteremo perché quando tu andrà vista come una persona che difende l'aborto questo affetta tutte le sorelle e questo chiaro quindi le sorelle devono discutere questo hanno fatto questo mi ha chiamato da nuovo mi ha detto bene abbiamo fatto già la discussione e più di meno di più la metà la mezzo sì la metà della comunità non sono d'accordo con te e l'altra metà sono d'accordo e io non lo so ma tutti noi siamo d'accordo che noi vogliamo una società e una chiesa dove la gente possono esprimere cosa che pensano quindi noi siamo con te che tu dici la cosa che pensa non perché noi pensiamo tutti come te ma perché noi vogliamo una chiesa che e questo mi è piaciuto tanto per questo perché io penso questo è la la comunità più buona che si può avere non una comunità omogenea non sarebbe bene bello per me è buono che tutta la mia sorella pensano come io che cosa è impossibile questo è impossibile ma anche come idea non mi piace di pensarlo ma naturalmente non mi piace anche di pensare pensano altramente mi forzano ma non mi piace cosa significa di pensare altramente e di avere un essere insieme che non è solamente una parola è una realtà questa è una sfida e questa è la sfida che mi piace della sfida della libertà e vorremmo chiederti libertà che evidentemente appartiene anche appunto alla vita del monastero dicevo prima c'è questo bel testo che tu hai scritto appunto fede libertà che fra l'altro scandisci in capitoli che corrispondono alla liturgia delle ore quindi parti dal mattutino proseguire ecco ti faccio questo proposito una domanda perché è una mia curiosità a un certo punto tu parli della cilia allora qui ho rispolverato ricordi antichi di testi monastici in particolare di evagrio ed è una questione che mi sembra interessante non solo per quanto riguarda la vita monastica perché questo demone meridiano cioè questa questa noia della vita questo desiderio di essere altrove di fare tutt'altro che se secondo la tradizione o di non fare niente che secondo la tradizione monastica appunto è forse la tentazione più forte del monaco e arriva intorno al mezzogiorno appunto proprio nel bel mezzo della giornata mi sembra che sia una questione che ci interpella profondamente non riguarda solo la vita monastica perché se noi lo traduciamo come il te di un vite quel senso di noi appunto quella senso di insignificanza dell'esistenza ecco credo che questo sia un disagio molto diffuso e che ci può inquietare molto ecco ma come si combatte la cilia questo si dice così no è il problema o la tentazione più grande della vita monastica sarebbe quella di il tedio di fare le cose sempre uguale tu sempre mangia perché sempre a qualcuna cosa forse non cosa è squisita ma c'è per mangiare e c'è un tetto e c'è anche una gente con cui tu vive e quindi la vita è sicura può dirsi in questo esterno e se tu non sei vivo di una forma profonda la vita ti può ti può abbandonare la passione di vivere sì e questo è una cosa antica quindi come si combatte la domanda ma primo di dire qualche cosa a questo io devo dire che mi sembra che primo è di anche vedere vedere la cosa buona di l'acidia e la cosa buona della depressione forse non depressione come un titolo medico la della tristizia o della del tedio della tutto questo sono penso io così ho imparato la cosa sono necessario per fare cambiamento di vita non è così che che tu già nasce insegnato e tutto lo sai no noi dobbiamo imparare sempre di più ma quando tu impara prima di imparare deve riconoscere che non sa che c'è qualche cosa che tu pensava di essere forte e non è forte non è una un momento di disillusionarsi di vedere ha detto a milena che il demonio meridiano è al mezzogiorno no dopo della del pranzo e il cortisol comincia di andare su e dopo l'energia anche alla matutina tu pensa a un nuovo giorno va oggi lo farò sì oggi sarà un giorno che io farò questo non so se io mi faccio la lista no delle cose e dopo a mezzogiorno si vede già che no che no che il giorno non sarà completo della forma spedata e quindi ma dopo si bisogna non si può andare a dormire al mezzogiorno perché alla notte si può anche fare questo di vedere no non l'ho fatto ma ando a letto e questo va bene ma al mezzogiorno non via si vede che no ha stato il giorno che si voleva ma romani con tanti ori per vivere questo è una forma di avere un tedio che si corrisponde forse con la cosa che oggi si chiama la crisi della mezza vita no 40 anni 50 anni che anche tu non sei più giovani e pensa non può una persona di 40 50 anni non può pensare io inizio a vivere questo non è così no non è realista tu hai già vissuto e c'è un momento di fare qualche cosa che se non l'hai fatto non è il momento di farla quando oggi si parla tanto di una seconda vita e tre terza ma quindi questo è un po di di andare di scappismo no di non lo so con rispetto per tutti i tantissimi che fanno una scelta con 50 anni è benissimo ma lo cosa che io voleva dire è anche con il matrimonio forse in questo momento una di dire ah proviamo un'altra cosa è tutto il rispetto naturalmente ma io provavo di dire che c'è un momento che questo questo periodo di di annoia annoia è un periodo creativo è come una un momento di confusione momento di non vedere cosa si voglia fare un momento di di vuoto vuoto e il vuoto è cosa che si bisogna prima di la creazione è una cosa nuova e imparare di sostenere questo mi sembra che la forma non è una forma la cedia si combate con ginnastica o con distrazione o con non mi sembra quando è veramente cedia si è un po di annoia forse ma quando è cedia c'è solamente una forma è di sedere con lei è di sedere di una forma di di imparare il tuo modo di accettarlo accettare che alla vita c'è anche il momento del vuoto e che questo momento è un momento della fiducia forse è un momento di fare un'esperienza di essere nudo no di essere nuda di essere non la cosa che mi pensava di essere di essere come non lo so di un momento di una una non posso dare come una formula per farlo perché perché è precisamente la cosa che mi affascina di questo e di di avere una intuizione di non essere solamente una cosa negativa e una cosa negativa si tu la vive come una 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 cosa senza futuro o senza no non so bene come dirlo ma ma sì per me è importante anche per esempio che i bambini oggi non hanno tempo di come si dice avurrirsi annoiarsi e mi sembra molto importante che quando io era piccola e la mia famiglia molto attiva e tutto ma io era piccola io fino a dieci anni non ho avuto mai lavoro alla casa lavoro della scuola per la casa no io fineva la scuola alle cinque la tardi era tutto libero era tutto per fare no no per far per giocare per giocare e per giocare no con un adulto che diceva quel quel gioco per giocare con le mie sorelle e giocare questo a dieci anni ho avuto lavoro della scuola per la casa era un dramma però io non voglio farlo ma ma non tanto non avevano e non dico che non deve essere così ma io solamente descrivo cosa che vedo che noi non avevano extrascolare cosa che andare alla musica andare alle sport andare no quindi tanti ori tanti ori che non erano programmati che erano aperti e questo oggi mi 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 preoccupa che i bambini non hanno questo che non hanno forse mai questo e questo mi preoccupa perché mi sembra che forse avranno una esperienza come i giapponesi una volta ho stato con un amico missionario al giappone e mia mi ha detto io e visto anche in una famiglia che mi ha accolto che non so se è così perché questo è già di 30 anni ma non non so se oggi è così ma mi aveva detto che in giappone non c'è domenica non c'è una un dia alla settimana che non si labora e che solamente avevano tre giorni di vacanza all'anno e non sapevano cosa fare andavano al lavoro mi ha sembrato una cosa avverrante non dico che oggi è così io dico cosa che mi ha raccontato ma come come può essere cosa come può quindi questa cosa di l'attivismo e di sempre essere occupato la la cedia monastica viene perché tu apri una un spazio dove non non c'è già detto cosa deve farci sì e quando questo cade io penso che è un momento che non si può dare una formula per tutto perché il momento della della cresciuta personale è il momento sì anche della crisi della mezza vita questa cosa che ho detto è un momento che deve accompagnarsi ma accompagnarsi non nel senso di dare una direzione a questo momento accompagnarsi e nel senso di avere una persona che lo ha vissuto e che ti dice no non è la fine questo non è la fine ma deve vivere o no non si può andare alla destra sinistra sopra si deve si deve transitare al mezzo e si deve sì è meglio la benissima cosa è non 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 provare di distraggere no visto non è così facile ma è questo che il baglio pontico anche dicono è tutta la saggesa del primo monachesimo entra nella tua cella cella e la tua cella ti insegnerà tutto ma questo è vero è così adesso torniamo alla teologia tu hai citato prima il tuo incontro con schlusser fiorenza che è stato decisivo per te per molti aspetti ha bilanciato anche questa aridità che percepivi in un certo modo di fare medicina molto tecniche ecco ma perché sei stata attratta dalla teologia femminista schlusser fiorenza è chiaramente esposta sul fronte della teologia femminista e pensi che sia ancora attuale ora adesso in questo momento quando secondo molti ormai è tramontata ampiamente la stagione del femminismo assolutamente no è tramontata io io penso perché cosa che io ho per tutti quelli che si chiamano femministi o hanno fatto si parla dell'esperienza dell'aha dell'esperienza del momento che tu vedi una cosa che sempre è stato là ma non la hai visto e questo mi è accaduto così no quando tu legge i libri di schlusser fiorenza e tanti altri ma ma questi tu tu vedi cose che pensano ma come come è possibile che questo sia detto così quando io ho scritto il libro che forse è qui anche della teologia femminista nella storia no questo denutrimente e questo sì penso di sì questo è dell'anno 2007 è il primo che scritto di teologia femminista è un e io e pienti appianciuto pianto e anche sperimentato una grande gioia e pianto perché quando io ho letto che nel secolo quattro quattro gregorio de nazianzo che un dottore della chiesa un grande teologo il secolo quarto ha già fatto una omilia dove ha detto e io vedo questo è letteralmente che dice io vedo una cosa che non mi sembra buona io vedo che a dio ha detto tu deve onorare il padre e la madre e io vedo che quando è la donna e l'uomo devono essere insieme ma quando se pecca contro la donna questo è il peccato dell'adulterio quando è la donna che pecca contro l'uomo tutto il peso della legge cade sopra di lei ma quando è l'uomo che pecca contro la donna non passa nessuna cosa questo è il secolo quarto e gregorio de nazianzo ha detto ha scritto non mi sembra bene questo non mi sembra proprio ma questo non viene da dio non può venire da dio quindi viene di una cosa umana e viene perché quello che hanno fatto la legge sono l'uomo non le donne e questo è un'analisi così semplice ma al secolo quarto se al secolo quarto lo vedeva gregorio de nazianzo per questo piangio perché siamo al secolo 21 e quindi le legge non sono tutti così che fanno questa visione chiara e per questo anche mi godo sono felice perché già al secolo quarto si è visto sempre non credo per un momento che alla femminismo una cosa che si è sviluppato la storia e che dopo prima non si poteva aspettare che si vedeva si vedeva si vedeva sempre hanno avuto non tutti ma sempre hanno avuto donne e uomini che hanno visto questo non è giusto questo non va bene e sempre dall'inizio che noi abbiamo una una cosa che non è giusta c'è gente che dicono questo non va e non è giusto ma la storia benissimamente ha fatto un percorso e noi abbiamo avuto un momento quando questo ha diventato un movimento politico e ha fatto cambiamento ma devo anche dire che per me è stata una una cosa difficile di capire quando ho letto un articolo di si chiama joan kelly una storia d'ora fa la storia l'anno penso che 1984 ha scritto un articolo su cosa accaduto ha parlato di cristina de pisane che si conosce oggi abbastanza no come prima donna che vive della letteratura l'europa ma cosa che ha scritto è cosa accade con la modernità e il ruolo delle donne joan kelly ha scritto all'epoca della medievo perché oggi forse pensiamo a all'epoca antica la donna era più sottomesa sì e la storia si muove e la donna va ma guagna libertà fino a di oggi no questa è una visione lineale della liberazione delle donne ma quando ho letto joan kelly diceva all'epoca medievale c'era un ideal social all'epoca medievale europea era la cristianesimo come cristianità dominava l'europa e quindi la cosa che aveva di più prestigio sociale era di essere santo o essere santa questo era la cosa che per tutta questa società sembrava di essere l'oggettivo della vita no tu tu vive per onorare cosa che dio aspetta di te e c'è gente che lo fanno e chiamiamo santi santo e si possono all'altare e si vedono per tutto di admirare come oggi futbolista e questo la gente che hanno un percorso che si admira va bene a questa epoca evidentemente aveva una sacerdozio e un potere ecclesiale che non era aperto alle donne ma la santità era l'ideal social non era di essere prete l'ideal della società non era di essere vescovo venivano anche criticato si ricorda solamente la danza la danza della morte che si trova adesso alla chiesa medievale e l'escheletto e scheletri danza con tutti con le ricchi con le poveri quando era molto chiaro per questa società e la quando veniva la peste era tutto erano ucciso no non era così che la gente pensavano alla cosa che è più buona di fare è di essere l'imperatore o di essere il papa o di essere il prete no e di essere santo di essere santa in quella era la l'ideal della società medievale quando viene l'umanissimo e la modernità che la pensiamo sempre come un momento di liberazione in questo momento questa ideal di santità si displazza si 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 è sostituito per un ideal che non ha di più a dio come centro ma l'antropocentrismo o la la il giro antropocentrico della modernità e quindi è non la la capacità di avere fede ma la capacità di ragionare che si vuole è al centro no questo con la modernità ma il luogo che uno diventava santo era la vita quotidiana o il monastero e monastero era per donna e per uomini e avevano più santi donne che uomini con la modernità viene il centro dove si pensa e la università e la università è aperta per donne sì o no a questo non lo abbiamo pensato insieme ancora abbastanza mi sembra a me perché con la modernità e con l'umanissimo viene per la prima volta una situazione di esclusione radicale di esclusione di quello che è diventa il centro sociale diventa l'ideale di una perfezione di una persona che è persona piena tutto questo che la donna è mezzo persona o che non siamo che siamo esclusa tutto questo in questo modo si inizia con la modernità non prima della modernità questo si porterebbe a una conferenza solo da qua ma mi interessa tanto e quindi io non penso fino di oggi che che il femminismo è passato ma deve sempre di di approfondirsi di di pensarlo bene per capire perché è la situazione della barcellona è una una metropoli moderna e si conosce tutto il mondo tutto ma l'ultimo è l'ultimo che io conosco e non è così da oggi e dell'anno 2000 quindi forse è un'altra cosa oggi ma quello che io conosco ho studiato è un studio da barcellona dell'anno dell'inizio del secolo ventunesimo dell'anno 2000 hanno fatto lo studio a barcellona quante ore lavorano le donne alla casa e quante ore lavorano l'uomo alla casa con la cosa che si fa la casa di mantenere la tutto questo lavoro e il risultato era le donne di barcellona del anno 2000 15 ora alla settimana di mezzo naturalmente donne di più e altri non fanno niente ma la 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 media era 15 ore alla settimana per l'uomini era 7 ore alla settimana la metà e in questo anno 2000 la le donne a barcellona che lavoravano fuori della casa hanno percepito di media la mità del salario dell'uomini questo come si capisce questo le donne hanno lavorato il doppio e hanno perceputo la mità come si capisce questo no 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 non si capisce non si può ma è una realtà e io ho detto la statistica che studiato non è di oggi ma mi sembra ovvio che oggi la cosa non è superata il femminismo va ancora mantenuto e così pure la teologia femminista è ancora una realtà vivacissima anche se poco nota in italia e quindi qui c'è ancora molto da fare per farla conoscere oltretutto la teologia femminista è una realtà non monolitica sono molte le teologie femministe e hanno prodotto anche molte certamente c'è un dibattito vivacissimo e hanno prodotto anche molte teologie che hanno assunto nomi diversi una di queste è certamente la teologia queer tu sei nota come teologa queer ecco ci puoi spiegare in che cosa consiste la teologia queer quando io perché abbiamo già detto io sono d'accordo naturalmente che c'è tante teologie femministe e anche c'è più di una teologia queer quindi si può dire infatti che c'è una teologia per ogni teologo o teologa ma questo non mi sembra malo questo infatti è cosa che io voglio dire quando parlo di teologia queer io voglio dire che mi sembra di essere così che dio guarda a ciacuno di noi come si noi sarebbero pezzo unico è una mirata che non si vede qui le donne e quelli uomini quelli vecchi e quelli giovani quelli tutti le italiano e tedesco tutte le categorie che noi usiamo e forse bisogniamo e nel tempo e nel spazio non sono categorie essenziale non sono categorie che forse sono categorie utile e non non penso che noi possiamo parlare come se non c'è spazio tempo c'è ma bisogna di essere molto consciente che non si può parlare di questo come essenziale ma che la mirata lo sguardo per l'altro può solamente essere vero quando sguarda l'altro come pezzo unico questo cosa significa per me la teologia queer perché la parola queer forse lo sanno tutto ma è una parola inglesa che significa originalmente strano strano raro e viene usata l'anni 90 come un insulto per le persone omosessuali forse in italia non lo so si dice invertito si dice questo si diceva sì sì queer ma ma questo è queer perché queer è come in tedesco queren è cross e non è straight e queren è una cosa che croccia è una cosa che non va retta come invertito una verso una direzione è traverso e si va e questo in spagnolo si dice invertito con ma questo è l'idea di queer che tu non c'è una categoria qui donna qui uomo donna ha un rapporto sessuale con l'uomo e l'uomo con la donna e questo è chiaro sì e c'è gente che sono queer che sono non vanno bene non vanno come si deve andare sì e quindi questa parola veniva usata come un insulto e l'anno 90 a nova york e london hanno qualche attivisti omosessuali hanno preso la parola come una siano appropriato della parola per dire va bene questo viene a noi come un insulto ma cosa significa che non vogliamo essere definiti per una categoria già esistente è una cosa che è solamente per noi o è una cosa che anche per tutti è una cosa che significa di al contrario essere essere soddisfatto soddisfatto di trovare la propria identità di una forma predefinita che già io mi trovo bene perché sono una donna ma che essere una donna essere una donna è non essere una donna e avere questo quello è nel corpo e già sta quindi se un uomo si cambia questo è una donna no no è una donna a che cosa essere una donna essere una donna perché si ha nessuno una donna è ma c'è qualcuno che nasce senza questo ma questo è non mi pregunta di più andiate no questa è una cosa che si si pensa profondamente non 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 riescono a trovare una 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 risposta completamente satisfattoria a questa che cosa significa non la donna uomo tutto cosa identitaria io sono catalana va bene io visco in un paese che si chiama catalogna questo va bene ma è interfiziale no ma cosa significa perché questo è importante per te tu prova di definirlo e non riesce a farlo penso io perché sono categorie ma questo non significa per me che è così che tutto sono intersexuali no io non lo vedo così io vedo che cosa che ho studiato è che la intersexualità è forse un 1% della gente quindi 99% si sentano felicemente donna o felicemente uomo e dopo viene l'orientamento sessuale ma questo è un'altra cosa no una cosa è che tu ti senti donna ti senti uomo e dopo tu ama un'altra donna ama un uomo questo sono categorie diversi o piano diversi di riflessione ma è certo che la grande maggioranza 99% sembra sembra di essere claramente e felicemente ascritto a questo che si chiama categoria binaria no uomo donna 1% a questo cosa significa 1% sono milioni di gente 1% è una persona di ogni 100 quindi è una minoranza ma milioni di gente che sono veramente intersexuale per tanti motivi che non viene al caso ma per me teologicamente quando io faccio l'antropologia teologica non è così che io bisogno milioni con uno mi basta per dire cosa voglio fare di adattare la persona alla teoria o di adattare la teoria a cosa che c'è alla realtà personale si sarebbe solamente una persona intersexuale al mondo io penso dobbiamo cambiare la nostra antropologia teologica ma non c'è una persona c'è milioni di persone ma una minoranza una grande minoranza perché 1% è una cosa che si sarebbe alla unione sovietica dicono un'animità perché 1% non si vede no un'animità no non è un'animità è una persona di ogni 100 che bisogna di cambiare la nostra forma di parlare non di questa persona ma di che cosa è essere umano che cosa è la sessualità umana non per dire che tutto sono intersexuale no non sono tutti io non lo so se tutto voglio dire dire così mi sembra bene ma non bisogna di pensare che tutto devono pensarsi come io non so se sono dono uomo ma il fatto che uno è veramente e si riconosce veramente come intersexual fa una sfida per tutta la nostra forma di parlare di questo e per me è una sfida buona molto positiva una sfida che forza a rendersi conta che le categorie uomo donna femminile masculino non possono essere essenziali io ho anche un un fondamento teologico per questo non se sia il caso di dirlo pensa che sì perché è un fondamento che la teologia si funda è per la teologia cristiana si pensa la trinità e la cristologia sono le due grosse pedestali columnio no e questa è la cosa che i nostri fratelli e sorelle ortodossi espressano con questo così no quando si santigua facciano così o quando benedicino facciano così e questo è la trinità e tre che un dio in tre persona e questo due sono la una persona di cristo e due naturalezza no la umana e la divina e con questo mi santifico e con questo benedico questo è la cosa più centrale quindi io ho un argomento trinitario e un argomento cristologico per dire che la femminità e la masculinità non possono essere essenziali cosa significa per me che non c'è masculinità o femminità no io penso va bene se c'è va bene se non c'è ma possiamo studiare forse c'è forse non c'è ma cosa che per me è importante che non è essenziale e se non è essenziale significa per me che io può possono accettare la persona intersexuale non come un malato non come una persona che ha sbagliato una persona che deve essere corretta che deve essere portata di ritorno alla cosa buona una persona che mi fa piangere perché poverina non come una persona che mi aiuta a vedere cosa significa di essere umano e quindi l'argomento cristologico è che quando si parla di la trinità noi parliamo di una il papa giovanni 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 paolo giovanni paolo secondo ha fatto la sua teologia del corpo e con la teologia del corpo ha provato di fare una fondamentazione teologica per la sessualità umana che è molto coraggiosa in quello che accetta di parlare del corpo e della sessualità umana come significativa per la teologia questo mi sembra bravo non si aveva fatto prima e penso che è molto importante di farlo e ma questa teologia che si insegna in tanti luoghi oggi cattolici prova di fare una una dignificazione del corpo perché fa una collegazione di che cosa significa essere pienamente umana per una donna questo va legato alla capacità di ricci ricevere l'altro il corpo della donna è fatto per ricevere quello che il corpo dell'uomo ci dà e l'organo maschile entra dentro il corpo della donna e la donna può fare una accoglienza nel proprio corpo e quindi giovanni paolo giovanni paolo secondo fa questa estereotipo femminile ma lo liga al corpo per dire che la donna ha una capacità di essere la per l'altro e di accogliere e che la la cosa sbagliata della storia e della chiesa ha detto giovanni paolo secondo ha detto già la lettera alle donne io domando perdono delle donne perché la chiesa non l'ha fatto bene perché la chiesa ha fatto la donna come di meno e questo è sbagliato e la società anche perché hanno fatto la capacità di ricevere ricevere l'altro come una cosa subordinata con una cosa meno di meno di meno che quelle cose la capacità di dare dare e quindi la la capacità di darsi e di espressarsi quello che giovanni paolo secondo be vede collegata con il corpo maschile che ci dà e si 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 in catalano vessa si come basa e se vierte se come una oglia che si 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 non si riversa si e stai parlando della della eiaculazione a e così va bene si 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 dà va bene non lo so non lo so di dirlo più finamente ma si si capisce no questo lo vede come una cosa che l'uomo ha questa capacità e quindi sarebbe per giovanni paolo del secondo questa questo la è il principio maschile e quindi il principio maschile è con gesù e il principio femminile con maria no e questo è la è una sintesi della teologia dal corpo ma quello che io voleva dire è alla trinità c'è un rapporto d'amore è un rapporto di vero amore è un rapporto che la nostra non solamente non solamente la inspirazione per che cosa è l'amore che cosa è amare ma il sostenimento è il fondamento della nostra capacità di amare questo rapporto della trinità naturalmente ha un dare e un ricevere perché se no non c'è amore è un condividere ma quello che dà tradizionalmente si chiama la figura del padre no e quello che riceve è la figura del figlio la persona del figlio ma c'è una differenza sessuale entro il padre e il figlio non c'è non c'è una differenza di sostanza perché questo è tutta la cosa della teologia trinitaria si ricordano quando noi preghiamo il credo è consubstanziale si dice così in italiano homo usios è la parola greca consubstanziale e questo è fondamentale se questo si 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 indebolezza tutta la teologia cristiana va via e consubstanziale padre e figlio il che dona e il che riceve hanno la stessa sostanza questo è così centrale importante filosoficamente teologicamente che non so come giovane paolo del secondo ha potuto dire una cosa che una sostanza è la che dà e l'altra la che riceve una masculinità femminità separata con l'essere umano che è stato fatto all'immagine di dio e di dio trinitario non si può fare questo è la regia di aria è una cosa che non è compatibile con la teologia trinitaria di parlare di dare e di ricevere come una sostanza differente mi ha esplicato un po non è dopo la cristologia è così che la anche la teologia più classica con i padri dell'eglie della della chiesa e hanno fatto un axioma di questa teologia che dice no cosa che non è stato assunta in cristo non ha non è stato salvata redimita cosa che non è stato assunta cosa significa è questo debattico nel docetismo che dicevano sì cristo è dio diventato uomini alla sembranza di uomini ma non veramente uomo non veramente limitato perché deve essere dio non può essere limitato e tutta questa discussione teologica è no dio può essere limitato perché la unica cosa che non si limita mai in dio è l'amore e l'amore si limita per amore perché per amore io faccio spazio per te io limito il mio movimento perché siamo nello stesso letto io devo di farlo questo perché se no tu va via no e questo è centrale per l'amore è la limitazione fatta per amore non per repressione non per per amore io faccio spazio per te e non è così che io posso andare avere tutto l'espazio e tu anche questo è capitalismo è frustrante perché non è così sì vogliamo andare insieme come io ho detto della mia comunità io devo fare spazio per l'altro e farlo aspettiamo liberamente gioiosamente quindi gesù non è non sembra umano è veramente umano sì è veramente umano noi diciamo nel credo è uguale a noi in tutto essetto il peccato e il sesso no perché se il sesso è essenziale è tan essenziale che noi non possiamo rappresentare cristo alla liturgia perché cristo era maschio e noi non siamo maschi che cosa si dice con questo è una cristologia sbagliata perché non si può dire che cristo ha assunto la femminità se la femminità è una cosa essenziale è contrapposta alla masculinità cristo era maschio sembra di esserlo forse era transessuale una cosa che non sappiamo e per me non è un problema questo ma accettiamo che era maschio se era maschio non era femmina d'accordo con questo binarismo se non era femmina c'è una cosa umana che cristo non ha assunto e se non l'ha assunto non lo ha redimito quindi la femminità come ha stato detto o interpretato di tante teologie è problematica la femminità è problematica e quindi hanno detto anche il vangelo di maria magdalena maria magdalena va al cielo perché si fa maschio e il buddismo lo dicono anche delle figure del buddismo è tutta una tradizione di questo la problemicità problematicità dell'essere femminino e quindi questo significa cosa è teologicamente non si può parlare di una differenza essenziale io insisto che non è che io penso che si deve annullare tutta differenza non mi sembra necessario e non mi sembra autentico ma il punto è che cosa significa essenziale essenziale significa che tu non puoi educare il bambini fuori di questo perché è essenziale e tu non può lasciare che i bambini si disorientano di questo perché è essenziale che la teologia non può lasciare che la gente si vengono insieme in un sacramento che si chiama matrimonio se non sono dicotomico perché è essenziale e io penso questo potrebbe essere altrimenti potrebbe essere visto non come una cosa essenziale ma come una cosa che c'è che la maggioranza l'anno di una forma una minoranza di un'altra forma ma che la cosa essenziale dell'amore rimane di essere se una persona dicca a un'altra io sono qui per te e se questo è vero questo è un sacramento per me avevo preparato un sacco di domande io soltanto immagino anche il pubblico fra l'altro è ritornata tante volte questa questa indole catalana è di sua artereza e non sono riuscita neanche a fare le domande su questo suo attivismo politico ecco però potete ricostruire un poco altre questioni del suo profilo purtroppo so che dobbiamo chiudere sono le dieci e non c'è neppure tempo per dare la parola cinque minuti ancora allora facciamo così io mi taccio se c'è proprio la necessità di fare una domanda a cui però sua teresa deve dare una risposta brevissima volentieri accettiamo questa possibilità ma davvero dobbiamo chiudere entro cinque minuti per dei motivi di trasferimenti di persone c'è qualcuno che osa una domanda telegrafica a sua teresa o altrimenti ci lasciamo meditando una persona non ho visto una mano eccomi scusi non la vedevo è brevissimo sì sì prego il ghiaccio ma faccio veloce allora siamo ai 700 anni dalla morte di dante e lui chiude la divina commedia con la frase con una frase con un verso che che racchiude la sua percezione di dio e quello che è per lui in quel momento ed è il verso è l'amor che muove le stelle il sole le altre stelle domanda se si può fare come racchiuderesti la tua percezione ora di quell'immagine di quel dio di quello se non so se chiara la domanda si è molto chiaro rispetto a quello che abbiamo questo è quello chi fa spazio intorno a me io penso l'amore e dio e per me l'amore e non soltanto non primo di tutto un'esperienza di quello che mi abbraccia che anche è quello che mi abbraccia che mi sostiene ma se io ti dico la mia esperienza dell'amore la più profonda la più che mi che mi muove sempre di più e che mi io non so le parole sconvolge o che mi si è sconvolge e che e quando io trovo con dio e forse anche con altri un'esperienza che c'è un volerme bene che mi fa spazio e significa che io può essere più io stessa perché non perché io sono io stessa perché io dico a dio tu va via io sono io stessa tu melena va via io sono io stessa no e perché tu sei con me di una maniera che mi fa spazio intorno da me e questo per me la pericoresi la parola tecnica della teologia trinitaria è amore pericoretico e peri significa circondante peri e coreosi coreo in greco significa come la parola coreografia di fare una coreografia di fare una coreografia e scrivere l'espazio no fare una danza quindi pericoresi significa di fare spazio all'intorno e questo è cosa che io penso fa l'amore e cosa che fa dio con me allora vedo la richiesta di un'altra domanda mancano tre minuti quindi lo dico a entrambe prego io ho vissuto negli stati uniti e ho presentato delle chiese protestanti dove c'erano le donne prete adesso faccio tanta fatica a entrare nelle nostre chiese tanta è bello che ci siano le teologhe ma ci devono essere delle donne che le vediamo quando andiamo nei luoghi di culto che cosa possiamo fare qui io quando io andato alle stati uniti al 92 io ho pensato a io sono le stati uniti per alcuni anni io andrò a una chiesa protestante e ho andato non perché io avevo una crisi di fede cattolica ma io ho pensato è buono di fare un'esperienza e è stato incardinata come si può essere quando si è cattolico in una chiesa episcopaliana che aveva una donna prete e era prete e come si dice in italiano pagliasso pagliaccia si faceva il pagliaccio per i bambini malalti andava all'ospedale e faceva con il naso rosso e faceva il pagliaccio e dopo era la parrocchia e io ho esperimentato io era già femminista ma quando la prima volta visto che lei prendeva la ostia e dopo il calice io ho fatto così per vedere che cara facevano le uomini per vedere come si approbavano è ridicolo ma io ho fatto così per vedere e tutto era non normale naturalmente io pensavo oh mamma mia questo è molto importante e quindi io dico una cosa che forse lo sanno tutto forse no che l'anno 2002 hanno stato ordinati come prete sette donne cattoliche su un barco al Donau al Danubio si ordinati di due episcopi cattolici quindi con tutto formale della chiesa dopo di questo hanno stato excomunicati ma queste donne non hanno andato non hanno tacciuto ma hanno fatto dopo una è stata anche ordinata come vescovo di un vescovo cattolico due e questo movimento esiste e si può vedere all'internet che è il movimento di Roman Catholic women priests no cattolici fra donne che sono prete e oggi io penso che sono più di trecenti e non solamente doni ma anche uomini ma uomini significa che anche uomini fanno parte di questa chiesa tutto sono excomunicate tutto sono ma questo cosa passerà con questo questo per oggi è una chiesa parallela ma anche Monsignor Lefebbre ha fatto un cisma una chiesa parallela e dopo è stato rientrato ma non lo so che cosa passa accade ma io mi sembra che deve io conosco personalmente alcuni di queste donne preti e io dirigo una rivista di Iglesia Viva ho invitato a lei a scrivere l'esperienza e mi sembra che è buono di accompagnare questa esperienza di se io sentireva questa vocazione io lo fareva ma non l'ho sentito di essere preti ma io rispetto profondamente le donne che sentono questo e mi sembra una cosa interessante interessante buona e con speranza che lo hanno fatto e mi dispiace naturalmente di avere questo cisma ma cosa può dire no lo hanno fatto e tanta gente la mia sorella ha due figlie e non sono batteggiata perché mi ha detto no quando tu lo puoi fare sino non voglio che le mie figlie andano a una chiesa che dicono no tu non puoi rappresentare Dio non mi piace e tantissima gente e quindi alcuni di tanti sono andati con queste donne che sono ordinate e trovano la una forma di bibbia la fede ah lasciamo che la cosa va via e forse è di Dio e faremo qualche cosa nuova dobbiamo salutarci ringrazio davvero di cuore sua Teresa sperando di rivederla a Bolzano tra qualche tempo chissà se è magari affezionata ai luoghi una ulteriore buona serata a tutti voi e chiudiamo qui salutandoci davvero di cuore grazie a tutti